Questo è un parco via Guido Rosso peccato non è mai usato però c'è il segno di gente che lo fa in maniera indebita perché è rete rotta ampeggianti rotti perché si appoggiano per scavalcare comunque è chiuso col catenazzo ha comunque delle orari da rispettare mai visto nessuno utilizzare sto parco sinceramente potrebbe essere sfruttato meglio però c'è gente che lo usa in maniera poco accorta quanto vale